Io abitavo in un palazzo, semplicità non è semplificazione e vale solo dopo aver sbrogliato il gomitolo della complessità, così Raffaele Lacapria, in umori e malumori, nel segno di una saggezza tutta partenopea, perché la sua opera era imperniata sul Napoli, città in cui era nato il 3 ottobre del 1922 e a Napoli è ambientato il suo romanzo più celebre, Ferito a morte, con cui vinse il premio Strega nel 1961. Raffaele Lacapria se ne va all'età di 99 anni, il 3 di ottobre ne avrebbe compiuti 100, arrivare ad una cifra tonda sarebbe stato troppo per un maestro dell'eleganza, dell'ironia e del disincanto. È possibile che il dolore anche di piccolo animale sia per niente, non sia registrato da nessuno, sia gratis, si può soffrire per niente, senza nessun riconoscimento, senza nessuno che sappia del tuo dolore, se Dio non sa questo, che Dio è? Dudù, come era chiamato familiarmente, è stato anche saggista e sceneggiatore, con Francesco Rossi ha scritto le mani sulla città e uomini contro, impegnato inoltre come giornalista in riviste quotidiane, tra cui il mondo, tempo presente, e il Corriere della Sera, ovviamente a dominare la sua lunga carriera di romanziere, tanto che a lui sono dedicati due meridiani, pur con l'innegabile legame generatore con Napoli, Raffaele Lacapria, non può essere considerato un autore ripiegato su se stesso. Perché uno scrittore deve essere uno scrittore e basta, e io sono uno scrittore e basta.